You a*****, come here a*****, f***** Bestemmia, cosa peggiore che si può fare in Italia se tu bestemmi la tua vita è finita ti eliminano dei reality, ti odiano tutti è una cosa proprio che non puoi fare tranne in Veneto, in Veneto proprio ma lì la usano come intercalare però per il resto la bestemmia in Italia è ripudiata i tuoi genitori ti dicono assolutamente non bestemmiare anche in Toscana, anche in Toscana bestemmiano tanto però ci finiscono le frasi proprio però per il resto proprio la bestemmia in Italia è un paese cattolico non devi bestemmiare, anche in Umbria anche in Umbria bestemmiano tanto quante scuse dobbiamo trovare per non ammettere che ci piace bestemmiare è una cosa che facciamo non è bella e la sopprimiamo perché quando cresciamo ci insegnano per educazione che non bisogna bestemmiare va sorpresa per non urtare la sensibilità delle persone che abbiamo davanti tipo ruttare o fare i peti sono cose che vorremmo fare per natura però ci viene detto di sopprimerli perché sono maleducazione perché urtano la sensibilità delle persone che abbiamo davanti e noi vorremmo tantissimo ruttare quindi che cazzo gli costa ad alcune persone sopprimere la propria omosessualità e dai ok ora no no vabbè sto scherzando sono una persona stupenda di sinistra come tutti voi veramente veramente e che a volte nella stand up comedy ti dicono di dire cose che la gente non direbbe mai e io le dico però veramente riesco a dire queste cose una cosa che non riesco a dire che è un blocco mio ma credo che ce l'abbiamo tutti dire una persona che ha la cerniera abbassata quando ha la cerniera abbassata ce la faccio impossibile che è una cosa che a me questo blocco che abbiamo non mi tocca perché io non ho mai la cerniera abbassata perché la cerniera abbassata ce l'hai quando sei in ritardo ed esci di fretta e io sono sempre in ritardo perché non ho rispetto per le persone nella mia vita però non mi capita mai di avere la cerniera abbassata perché anche quando sono in ritardissimo e comunque mi prendo un momento è una coccola che io faccio al mio pisellino un rimboccargli le coperte prima di uscire faccio proprio notte notte campioncino tiro su papino esce fuori a comandare il mondo è una cosa che non mi succede mai però c'è questo problema e molti dicono è tipo dire a uno che c'è il cibo fra i denti no perché lì il problema è che c'è il disagio e il sottotesto è guarda stai facendo una figura di merda da 20 minuti hai del cibo fra i denti e poi vi godete questo disagio di lui che dice oh mio dio lo sapeva e non me l'ha detto e tutto il problema col dire a qualcuno che ha la cerniera abbassata è che c'è sia questo sia un altro sottotesto che ti sto guardando il cazzo da mezz'ora hai la cerniera abbassata è una cosa che non riusciamo proprio a dire è vergognoso che nel 2023 non riusciamo a dire questa cosa però siamo perfettamente al nostro agio a chiedere di che segno sei a un colloquio di lavoro è una cosa che facciamo tranquillamente ora non voglio fare quello il comico che dice ah chi crede in dio è un cretino chi crede all'oroscopo è un deficiente io voglio approcciarmi alla cosa con logica per alzate di mano c'è qualcuno che crede all'oroscopo qua veramente tranquilli non c'è nessun giudizio nessuno? là in fondo ok questa poteva non essere una donna però lo è senza assolutamente giudizio come ti chiami? Anna? sei una cretina Anna? no 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 veramente qual è il segno peggiore dell'oroscopo? cancro vabbè siamo a Milano non c'è differenza tra uomo e donna Anna perché è il peggiore segno dell'oroscopo cancro? quali sono i tratti che lo rendono il peggiore? perché mio padre è cancro perché tuo padre è cancro? e cosa fa tuo padre? a parte i traumi che ci hai rivelato ora di cui non avevamo bisogno però cosa fa tuo? cioè quali sono i tratti del carattere di tuo padre che lo rendono? una mascolinità estremamente tossica ok una mascolinità estremamente tossica quindi cancro segno peggiore perché tra le tante cose tuo padre è cancro è una mascolinità estremamente tossica cancro segno peggiore ti dico una cosa Anna Hitler, Stalin e Mussolini nessuno dei tre è cancro cioè tu mi vuoi dire che tuo padre è peggio dei peggiori dittatori della storia dell'umanità? però voglio spezzare una lancia in tuo favore Hitler era toro e tu da appassionata d'oroscopo mi insegni che i toro sono molto testardi e tenaci e tutto gli si può dire a Hitler forché che non fosse testardo dovrebbe essere studiato nelle scuole come esempio di testardaggine e tenacia dovrebbero esserci gli articoli dei giornali tipo quelli che si laureano a vent'anni che lo celebrano perché se deve essere cultura del successo bisogna celebrare tutti i successi perché molti lo portano come esempio di tenacia di testardaggine però non abbastanza perché poi ci sono sempre i Kobe Bryant e i Michael Jordan che si svegliavano alle 3 di mattina per allenarsi 15 ore al giorno però credo che dichiarare guerra al mondo intero da solo ti metta a un livello più alto perché sì, Kobe Bryant ha fatto 81 punti in una partita sola ma 6 milioni di ebrei credo sia in un livello un poco più alto di ossessione e di testardaggine quindi sulla base di questo possiamo dire che Anna è antisemita e... 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 e...